Allora, Ciro Manzo, non 38 primaveri come ho detto in diretta, scusami, 36, capitano della Turris, 100 presenze, domenica fantastica per te. Sì, sicuramente è stata una giornata che ricorderò per tutte le emozioni provate, l'ammatico di tre punti, però comunque è stata una bellissima giornata, ringrazio davvero tutti per come si sono comportati nei miei confronti. Condividi questo momento con Sport Event, la televisione della Turris, però era giusto condividere, permettere con degli amici perché ti seguono e sostengono sempre, prima l'amico e poi il grande calciatore. Sicuramente tu ti consideri un amico, sei una persona che meriti, fai questo lavoro con tanta passione e non potevo rifiutare questo invidio, questo invidio proprio fatto da te, ti dico la verità, quindi mi ha fatto piacere essere qui, comunque partecipato anche alla festa della Fragolese, quindi bene così, ora da domani si ritorna a battagliare perché domenica ci aspetta un'altra battaglia. Grazie.